Ciao a tutti, volevo fare questo piccolo video per raccontarvi un po' come sto vivendo io questo periodo super difficile per l'Italia e niente, io mi sveglio al mattino abbastanza con comodo, verso le undici e mezza faccio una piccola colazione e poi mi metto a fare esercizi esercizi nella speranza si possa riprendere una vita normale e quindi possa riprendere il campionato e niente, poi dopo magari il pranzo cerco di farlo sul balcone sotto il sole almeno per prendere un po' d'aria perché davvero esco raramente magari una volta ogni tre giorni per fare un po' di spesa e niente, serie tv, film, mi sono un po' provata a buttare in cucina ma in modo abbastanza deludente cioè io e la cucina siamo sempre stati due mondi molto lontani però vabbè ci si prova e niente, spero di vedervi a tutti presto, ciò vuol dire che tutto questo sarà finito e ritorneremo ad avere la nostra vita, una vita normale a contatto con le persone per ora è importante seguire le direttive che ci hanno dato quindi stiamo a casa e niente, vi mando un bacione a tutti